La Pia Nè 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 La sua noa frignare sapete voi Vi ricordo che vi siete affidati ad una ditta seria Professionisti con la P maiuscola You understand? The very big P Noi siamo a famiglia Volevo andare a Tormina a farvi la solita foto con mare, pesce, mezza capanna Un po' più cattivo Sbagliato Noi siamo gente di strada Veniamo dal basso Minacciano di chiamare la polizia Siamo senza benzina Il distributore chissà dov'è Quelle se perdono la nave restano qui per davvero Quanti saranno in una crociera? Migliaia Quelle alle 7 parto Parto E queste ci denunciano Servo un'idea in fretta Io ce l'ho Chiamo il tuo cugino Grazie